Per favore, non perda tempo con una visione del mondo così... scadente. Formate coppie nuove, da persone che non si conoscono. Ricordate, non accontentatevi. Non accontentiamoci, no? Non accontentiamoci. Allora, piacere. Fausto Biasutti. No, non ci credo. Anch'io mi chiamo Fausto. Veramente? Sì. Ma lei ce la vede qui, la conquista del vuoto? Ma quella... non è la nostra corriera. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì muore. E' come me. Eccoci qua. Che meraviglia. Presto saremo autosufficienti. Sarà una grande avventura. Questa birra è veleno. E allora facciamola noi. Però che bel buio. Signora Gina. Ti vendi da casa? La nonna Adele diceva sempre. Diceva sempre che sei un mona. Va via mona. Torna a Roma mona. Il trattore. Il trattore. Lei ha ossessionato da cose che neanche conosce. Qui dentro alla sera non si vede un cazzo. Scrivete il reddito che avete dichiarato quello giusto. Perché Dio vi vede. E c'era a vederti autos. Mi dici che cazzo vuoi? Scrivete.